Eni Taranto, ambiente salute, prima di lavoro e profitto. Interviene Mino Borracino, consigliere regionale di sinistra italiana, liberi e uguali. Altro disagio oggi nella città di Taranto con un nauseante odore di zolfo che si è improvvisamente propagato dalla raffineria Eni nella città raggiungendo anche alcuni comuni vicini come Massafra e le località di Lama e di San Vito. Sollecitato da numerosi cittadini ho contattato l'ARPA che sta verificando la natura delle emissioni da attribuire probabilmente ai meccanismi di emergenza della raffineria che a causa del blackout elettrico provocato dal maltempo prevedono l'accensione delle torci a camino con il conseguente odore acre di gas. Veniamo altresì a conoscenza di ulteriori sversamenti in mar grande di idrocarburi provenienti probabilmente dalla raffineria. Pertanto ho informato dell'accaduto con una PEC la direttrice del Dipartimento Ambiente della Regione Puglia ed inviato al presidente della Commissione regionale ambiente Vizzino apposita richiesta di audizione urgente oltre che della medesima dottoressa Barbara Valenzano anche dei rappresentanti dell'ARPA Puglia per riferire sull'accaduto e approfondire così la vicenda. Occorre accertare nella maniera più assoluta le conseguenze sulla salute pubblica di questi accadimenti e lavorare conclude così Borracino affinché si mettano in atto procedure finalizzate a che episodi del genere non abbiano più a ripetersi.